Bentornati su un uomo ammazzo e bentornati nella mia rubrica film in uscita. Continuiamo a parlare di film che trattano la tematica della demenza senile. Ne abbiamo parlato anche nella mia video recensione di The Father, Nulle Come Sembra, film premio Oscar con Anthony Hopkins, dove tra l'altro avevo detto a voi che avevate visto il film in generale, avevo detto se conoscete altri film che parlano dell'argomento scrivetemi, e lo fatemelo sapere perché ci tengo particolarmente. Manco a farlo apposta, sembra che mi abbia proprio sentito Viggo Mortensen, regista di questo film, conosciuto al grande pubblico nerd come Aragorn del Signore degli Anelli, che ha fatto anche lui un film che tratta l'argomento ma in maniera ovviamente totalmente diversa da The Father. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo se volete di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, di condividere il video con tutte le persone che conoscete che possono essere interessate a questo argomento, di attivare la campagna delle notifiche e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo film, se lo avete visto, se avete film simili che trattano dell'argomento scrivetemelo qua sotto, e se per caso voleste, vorreste condividerlo un'esperienza personale, potete scriverlo qui sotto, o in alternativa, se ne sentite il bisogno, potete scrivermelo in privato nella mail che trovate qua sotto. Vi ricordo anche che domenica 12 settembre faremo una live di Landog e la malattia, dove parleremo proprio di malattia mentale, di demenza, di assistenzialismo, di cure, e ci saranno anche ospiti due psicologhe, quindi eventualmente, se siete per caso dei caregiver, gli avete bisogno di parlare con qualcuno, vi consiglio di seguirla live, e magari poi di prendere un paio di contatti, di scrivere magari nei commenti live. Siamo qui, ok? Cominciamo. Vorrei parlare un attimino del film in sé, proprio a livello cinematografico, perché questo è l'esordio alla regia di Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, che noi tutti conosciamo come l'Aragorn del Signore degli Anelli, diventato famoso a livello internazionale, appunto per aver interpretato questo ruolo iconico, è una persona dalle mille risorse, dalle mille capacità, dai mille talenti. Se non lo sapete è poliglotta, parla un sacco di lingue, tra cui l'italiano in modo molto fluente per la media degli attori americani che hanno intervistato. Dipinge, se non sbaglio, non so se anche suona, non vorrei dire una castroneria, ma sicuramente dipinge, adesso si è cimentato anche nella regia. Questo è un film molto particolare che non riesce a darmi un'idea di quella che sarà la sua impronta di regista nei prossimi film. Perché? Proprio perché parla dell'Alzheimer. Ci sono alcuni tagli, alcune scene, alcune sequenze molto veloci, come se fossero, diciamo, delle immagini veloci che scorrono nella mente della persona malata di demenza, dei ricordi, dei flash che gli arrivano, che sono specifici per questo tipo di film. Quindi non vi posso dire, ah, ok, Viggo Mortensen, quando fa il regista, ha queste scene un po' così. Non è così. Dovrei vedere almeno due o tre film per avere un'idea di quello che lui può fare come regista. Comunque l'inizio non mi è dispiaciuto affatto, non è privo di difetti anche nella sceneggiatura, perché di questo film Viggo Mortensen è anche sceneggiatore, ovviamente. Scusate se non l'ho detto, è stato implicito, ma è sceneggiatore e regista. La storia parla proprio di un rapporto tra un padre e un figlio, che a differenza, prendo esempio, del film The Father, dove vediamo proprio la senilità, la demenza senile in prima persona di questo Anthony, che è appunto interpretato da Anthony Hopkins, e ha questo rapporto con la figlia di Caregiving, si concentra proprio sulla malattia. Qua invece la malattia non è toccata in modo specifico, per quello parlo un po' più in generale del film e poi magari dico due cose sulla malattia. È, diciamo, una scusa, un pretesto per mettere vicine due persone che altrimenti non starebbero nella stessa stanza. E queste due persone sono un padre e un figlio che hanno un rapporto davvero disastroso. Ma c'è una doppia chiave di lettura in questo film, e in questo è stato molto bravo Viggo Mortensen nella sceneggiatura, oltre che nella messa in scena. Ovvero il fatto che prende questi due personaggi, questo rapporto padre-figlio, e li usa come, è un brutto termine, stereotipi, per l'antitesi di due correnti di pensiero tipicamente americane. Non solo americane, ma tipicamente americane. Ovvero il pensiero della persona anziana, vecchia, vecchia dentro, conservatore, che vota Trump, che ce l'ha con gli omosessuali, che ce l'ha con gli asiatici, ce l'ha con le minoranze, non sopporta le novità, non sopporta le persone che hanno un look troppo strano, che si tingono i capelli. Quindi tutte queste cose qua sono incarnate nella figura del padre Willis. E d'altro canto, diametralmente opposto, abbiamo la figura del figlio, di cui, scusate, non mi ricordo il nome perché l'attore Viggo Mortensen mi è entrato in testa, e per me è Viggo, scusatemi. Però il figlio incarna una persona diametralmente opposta, quindi dalle idee politiche totalmente diverse, abbiamo una foto di Obama sul frigo, il personaggio stesso è omosessuale, vive in California, patria appunto, secondo Willis, patria degli omosessuali, ma perché è famoso a San Francisco per essere una delle città più liberali, più aperte da questo punto di vista, e dove ci si può anche sposare tra persone dello stesso sesso. E' un po' stereotipato perché lui è non stereotipato come interpreta l'omosessuale Viggo Mortensen, ma il fatto che hanno messo tutti i cliché di Modern Family all'interno di questa famiglia. E' sposato con un altro uomo, l'altro uomo non è americano, è di origine asiatica, e hanno una figlia adottiva che è di origini latine perché parla spagnolo. Quindi diciamo che Viggo ha anche calcato un po' tanto la mano su questo nucleo familiare per dare fastidio al personaggio di Willis. Aggiungiamoci anche che il suo compagno di vita asiatico ha le braccia piene di tatuaggi, però stranamente Willis non ne ha mai presi in considerazione, però diciamo ci sono un po' tutti gli stereotipi di quello che può dare fastidio a una persona che ha una mentalità conservatrice. Il film parte da questi due punti di vista opposti e alla sopportazione enorme che ha il figlio verso il padre Willis proprio in virtù del fatto che è una persona anziana che si sta affacciando alla demenza senile e quindi non vediamo una lite su questi fronti proprio perché il figlio non ha interesse nel portare avanti una discussione sterile con una persona anziana che non sa nemmeno più quello che dice o comunque non riesce più a filtrare i suoi istinti più bassi. Ma non serve nemmeno che litighino tra di loro da questo punto di vista, è semplicemente il fatto stesso che il vecchio porti in scena questi dubbi ti fanno ragionare su un certo tipo di pensiero senza che ci sia l'altra controparte a ribattere. Si parte da qui per poi arrivare davvero a un rapporto padre e figlio di caregiving forzato perché a differenza di The Father dove non si capisce bene com'è stato Anthony quando era sveglio, quando non aveva questo tipo di problema quando era autosufficiente qua vediamo, oltre al presente, vediamo dei flashback della vita di Willis e della sua famiglia e è come se fosse una puntata di What If? ovvero cosa sarebbe successo se il protagonista di The Father sarebbe stato un autentico stronzo, bigotto, ignorante anche quando era giovane? Cosa succede quando una persona detestabile nella sua vita in generale diventa una persona da accudire? Certamente non migliora a volte può succedere, non vi spaventate a volte può succedere che una persona detestabile diventi un agnellino quando è colto da Alzheimer qua invece assistiamo a una persona davvero orrenda che durante la vecchiaia continua a essere una persona davvero orrenda lo è come persona e lo è anche nell'assistenzialismo ovvero lui rifiuta tutto ciò che sono i gesti le cure che la sua famiglia cerca di dargli detesta il contatto fisico quando anche lo stesso figlio all'inizio cerca di trovargli gli occhiali addosso perché Willis sostiene di averli persi sull'aereo mentre il figlio spera che ce l'abbia addosso e non se lo ricordi quando cerca di frugargli addosso Willis ha un'erazione sempre molto cattiva sempre molto estrema e molto fisica quindi in questo film assistiamo a la parte più brutta della demenza cioè a quando si reagisce con violenza agli stimoli esterni e alla parte anche più cattiva cioè quando il malato usa la propria bocca per sputare sentenze dall'inizio alla fine non c'è un momento in cui Willis abbia una sorta di tiri una sorta di freno a mano per dire anche solo un grazie al figlio o alla figlia una qualunque cosa che ti faccia vedere che è in sé abbastanza per ringraziare i figli questo perché anche quando è in sé è davvero una persona orrenda anche quando è in sé e cerca di dire qualcosa che per lui è non lo so carino in realtà è il massimo a cui lui può aspirare ma è comunque qualcosa che una persona che vive nel ventunesimo secolo non può sostenere è comunque qualcosa che fa cadere le braccia il massimo del complimento per Willis verso suo figlio è però non sembri un finocchio questo è il massimo del suo porsi vicino a quello che è suo figlio e infatti purtroppo o forse questa è proprio la sensazione che il regista ci vuole dare l'emozione che mi ha pervaso durante la visione di questo film appunto a differenza di The Father li metto in confronto perché sono usciti molto vicini e parlano dello stesso argomento in maniera totalmente diversa se The Father mi ha dato delle emozioni strazianti anche in base alla mia esperienza che ho rivisto come caregiver sullo schermo in Falling l'emozione che mi è arrivata è una costante rabbia dall'inizio alla fine perché questa persona da accudire è davvero ingestibile e vedere tutti i figli che proprio perché questa persona è malata ma comunque davvero è all'inizio dell'Alzheimer perché si limita a fare il cavolo che vuole a non sentire ragioni ma non abbiamo dei grossi elementi di Alzheimer come in The Father dove lui non si ricorda nemmeno come parlare o semplicemente vediamo questa persona detestabile da accudire e vediamo che nessuno gli risponde a tono solo perché appunto non sta bene non è in sé quindi con questa scusa nessuno gli risponde tranne un nipote che si rompe le palle che come è diciamo un po' la voce della verità è la voce dello spettatore prima del finale del film che dice a me non me ne frega niente se tu sei così se tratti male gli altri se sei uno stronzo io ti rispondo a tono perché può essere anche vero che non è colpa tua se tu stai così ma porco cazzo non è neanche colpa degli altri non è neanche colpa della famiglia quindi a parità di persone che non hanno colpa dopo un po' uno esplode che è un pensiero che se vi ha accompagnato nella vostra esperienza di caregiving presumo sia normale non mi metto il titolo per dire che è normale perché non sono uno psicologo assolutamente però può capitare di pensarlo quello che assistiamo lentamente nel finale del film è diciamo il burnout del figlio verso il padre cioè il fatto che lui comunque mano a mano che va avanti non riesce riesce sempre meno a sopportare questa situazione tra l'altro il film ha dei salti temporali oltre ai flashback ha dei salti temporali non indifferenti perché lo vediamo in una scena prima c'è l'esame della prostata del padre che aveva già subito un tumore aveva già subito un cancro e nella scena subito dopo vediamo padre e figlio che vivono mi sembra a Chicago comunque in provincia e lui ha già subito l'operazione una seconda operazione per rimuovere un tumore che si era riformato quindi c'è un bel salto temporale ecco se devo trovare un difetto magari in questa pellicola è che questo salto temporale è proprio netto non viene non viene percepito molto come il fatto che sia passato del tempo e se se fosse stato dal punto di vista del padre questa pellicola lo potrei anche capire perché per un malato il tempo ha svolge una funzione differente ma dato che il film dal punto di vista di Vick Mortensen del figlio potevano farci percepire un pochino di più che tra l'esame della prostata e l'operazione sia passato un po' di tempo anche perché avremmo capito che il figlio sta sopportando questa situazione da molto più tempo non c'è una vera e propria catarsi finale nel senso che sembra quasi che ci sia una non una riconciliazione ma c'è un abbraccio finale disperato tra il figlio e il padre quando finalmente il figlio non ce la fa più e vomita addosso tutto quello che non gli ha detto per tutta la durata del film e lo sovrasta fisicamente quando persino questo padre non ha la forza di alzarsi ma chiede aiuto al figlio per alzarsi per poterlo picchiare quando si arriva a questo c'è questo scontro che è stata l'unica cosa davvero emozionante che mi ha fatto appunto commuovere diciamo questo scontro fisico totale devastante senza senza soluzione si è risolto con un abbraccio un abbraccio disperato con il figlio che dice al padre va tutto bene però purtroppo come spesso accade nella vita reale il giorno dopo è una mattina come tante e non è cambiato nulla ecco forse questo film è più reale di quanto non si possa sostenere nel finale si capisce che anche il figlio rinuncia diciamo a occuparsi del padre lo lascia vivere come vuole dove vuole in casa sua anche perché da quanto si è capito il padre ha parecchi soldi da parte potrebbe benissimo permettersi una badante dalla mattina alla sera ma si non è in grado di ragionare al punto da percepire questo aiuto ma è in grado di ragionare abbastanza da non voler buttare via i suoi soldi come vediamo nelle scene finali quindi lui vive da solo finché un bel giorno non morirà per i fatti suoi nella sua solitudine come è vissuto odiando tutti e dando la colpa a tutti gli altri meno che al suo atteggiamento del perché la sua vita è andata così quindi se la sensazione che può dare un film come The Falling è una lenta pugnalata che ti lascia agonizzante questo invece è uno schiaffo molto veloce che come arriva se ne va anche il finale a un certo punto la pellicola finisce e non ti sembra corretto sembra che dovesse continuare ancora un po' invece si quasi si interrompe appunto come uno schiaffo un fulmine a ciel sereno che ti lascia così basito in questa finestra di vita a cui hai assistito per un paio d'ore e che ti fa comunque pensare a quante persone là fuori ci sono che hanno bisogno di assistenza e che non la vogliono perché non se ne rendono conto perché comunque al di là della loro malattia non hanno la diciamo l'intelligenza per capire quello che stanno passando perché comunque sono persone bigotte ignoranti comunque difficili da gestire a prescindere dalla malattia che devono anche affrontare questa cosa quindi qua abbiamo assistito davvero alla versione peggiore di quello che un familiare può sostenere come come caregiver piccola postilla qui abbiamo appunto l'alzheimer non è percepito molto in questa in questa pellicola però viene palesemente descritta una sindrome la sindrome del tramonto viene solo accennata che se vi chiedete che cos'è o magari l'avete anche vista accadere quella sindrome per la quale durante il tramonto assistiamo un po' alla fase peggiore della malattia dove c'è il maggiore straniamento da parte del malato questo perché tra le varie cose che subisce il malato è lo stravolgimento del ritmo cicardiano quindi del ritmo sonno veglia non capisce se è mattina o sera questa cosa si è vista anche in the father e quando appunto c'è il tramonto la persona è sempre molto molto confusa come lo stesso figlio dice al padre il riposino pomeridiano in questa cosa aiuta molto bene io vi ringrazio di nuovo per avermi seguito fino a qui come sapete sempre che le mie recensioni sui film di questo tipo sono più una chiacchierata su quello che io percepisco su quello che io sento in base a quello che ho visto quindi sono pareri assolutamente personali scrivetemi qua sotto i vostri vi auguro tantissimo di trovare questa pellicola in sala io ho fatto un po' fatica perché appunto io sto a Bergamo nel circuito UC Cinemas c'è solo se non sbaglio a Roma e forse a Roma e a Milano ci sono solo due cinema che ce l'hanno nel circuito Space Cinema invece l'ho trovato abbastanza vicino a casa però in orari nel senso temevo che lo proiettassero per soli pochi giorni invece fortunatamente l'hanno prorogato oppure in centro città sono andato allo Space Cinema per comodità mia di orari avrei voluto tanto andare in un cinema di città anche perché mi piacciono i vecchi cinema di città comunque vi auguro appunto di trovarlo perché è un pochino difficile però ne vale la pena quanto meno perché a prescindere da tutto avreste visto al cinema l'esordio alla regia di Vicko Mortensen vi ricordo quello che vi ho detto all'inizio cioè che il 12 settembre domenica ci sarà una live Dylan Dog e la malattia che parlerà appunto sempre di questi argomenti quindi se siete interessati vi metto il link in descrizione cliccate sul link e impostate il pro memoria in questo modo vi arriverà la notifica per ricordarvi che ci sarà la live e per tutti gli altri e anche per quelli che ci saranno in live come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti